Io credo che questa sia una legge importantissima, io parlo non solo da politica a livello regionale, ma anche e soprattutto come mamma di una ragazza adolescente. Purtroppo è un fenomeno dilagante, molto grave, che con l'avvento anche dei social, perché ormai tutti i nostri ragazzi, in modo particolare gli adolescenti, fanno uso dei social, e questo fenomeno dilaga in maniera molto importante. C'è una frase molto bella di una nota scrittrice, che è Daniel Steele, che dice che non tutte le forme di abuso lasciano lividi. Lividi evidenti, però, credo che le parole spesso uccidano l'anima delle persone e lasciano dei segni indelebili nella personalità dei nostri ragazzi. Ecco perché credo sia importante tutelare questi ragazzi. La cosa più importante è fare una campagna di informazione e di ascolto verso questo fenomeno.